Stefano Istoschi di ritorno dagli impegni con la nazionale, pronto a rimettersi a disposizione di Mr. Breda. Prima per l'ora parliamo di questo doppio impegno con la tua Macedonia. Sì, sono stati due partiti di qualificazione, sono finite ormai, quindi ho tornato subito e cerco di prepararmi, di recuperare piano piano per la sabata a Pescara, perché sicuramente è una partita tosta che dobbiamo uscire con i piedi giusti. Questo doppio impegno con la tua nazionale può influire sulla tua condizione fisica? Sicuramente ci vuole un po' di tempo di recuperare, però piano piano ci sono anche due o tre giorni. Sicuramente ci sta la stanchezza, però, come ho detto prima, devo dare massimo e cerco di recuperare subito. L'hai seguito da lontano in questi giorni in Latina, continuano i problemi in fase di realizzazione, in fase offensiva. Una squadra solida nelle retrovie, ma non si riesce a pungere con continuità. No, ma l'importante è che le partite non le perdiamo, il gol ci viene sicuramente, abbiamo fatto nove punti, quindi siamo a metà classifica, poi credo che il gol arriva sempre, l'importante è che la squadra cresce, come il mister ha detto, quindi ci pensiamo a partita per la partita. La Pescara è un po' più intraprendente? No, noi andiamo a giocarci come sempre, sappiamo che questa categoria Serie B puoi perdere contro tutti, puoi vincere contro tutti, quindi se va a giocarci è sperare a portare punti a casa.